...che cose che la persona... ...ci sono di che sia... ...la persona da lei... ...avece un giorno... ...e si tratta di cuccioli... ...e si tratta di... ...la figlia è una merda... ...la figlia è una paura... ...la paura... ...ho finalmente dato a... ...la altezza sicura... ...ah infatti povero non trova mai cuccioli quando viene qua... ...tempo è grande... ...perché io mi aspetto... ...l'altra parte... ...poi c'erano un lana al giur... ...la testa non so... ...la testa non la chiamata... ...el ro... ...cola R... ...la testa non la chiamata... ...la testa non la chiamata... ...e che c'è da? ...cicco! ... 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